Sono le 12, buongiorno e benvenuti al TG2000, questi i titoli di oggi. La manovra rivista da Bruxelles arriva in aula, Conte è soddisfatto, ma il no profit si lamenta. Taglio delle agevolazioni a rischio, tante imprese locali. L'ISIS è stato sconfitto via i soldati americani dalla Siria, l'annuncio di Trump scuote il Pentagono e gli alleati. Con l'annunciazione tutto cambia, la storia si capovolge, così Papa Francesco, nella messa di Santa Marta. E in apertura ancora la manovra finanziaria scongiurata per il momento la procedura di infrazione, dopo l'arrivo del maxiedemendamento che recepisce l'accordo del governo con Bruxelles, il venerdì approderà in Senato per molti. È stato un successo politico più che altro del Premier Conte, ma si apre il fronte con il no profit per l'abolizione del taglio dell'IRES. Sentiamo Augusto Cantelmi. La vittoria di Conte, l'assenza di Salvini e Di Maio, mentre il Premier illustra al Senato i dettagli dell'accordo con Bruxelles, non può passare inosservata l'intesa raggiunta dopo tre mesi di duro confronto e frutto del lavoro di compromesso voluto da Palazzo Chigi e dal Ministro dell'Economia Tria e sostenuto soprattutto dal Capo dello Stato, Mattarella. Ho valutato molto positivamente, anche per questa ragione, la scelta del governo di avviare sulla manovra di bilancio un dialogo costruttivo con la Commissione europea che ha agito con spirito collaborativo per aggiungere soluzioni condivise raggiunte in questi giorni. A Salvini e Di Maio ora non resta che difendere l'accordo raggiunto, sebbene sia stato necessario un taglio di circa 10 miliardi dalla prima versione della manovra. A farne le spese, soprattutto le due misure simbolo del governo gialloverde, riforma delle pensioni e reddito di cittadinanza. Manovra che tuttavia resta sempre sotto osservazione della Commissione che può in qualsiasi momento, di fronte al mancato rispetto dei patti, procedere con l'avvio di una procedura di infrazione. Ora la parola passa al Parlamento, nel pomeriggio la manovra proda in aula al Senato in un unico maxi emendamento sul quale il governo porrà la fiducia, poi il ritorno alla Camera per il Via Libera definitivo. Ma con un nuovo fronte che si apre la cancellazione dello sconto dell'IRES, l'imposta sui redditi delle società, di cui godevano gli enti no profit, un mondo che copre l'assistenza sociale, educativa ed enti ecclesiali per recuperare risorse per pensioni e reddito di cittadinanza. E nella manovra troviamo l'IVA che rischia l'aumento dal 2020 e un contenimento di quota 100 per le pensioni. Va meglio o per alcune misure di fiscalità familiare rifinanziate? L'approfondimento con Marco Bergamaschi. Scampato il pericolo di una procedura di infrazione da parte dell'Unione Europea, la manovra riscritta dal governo punta ad un aggiustamento strutturale di circa 10 miliardi di euro, raggiunto con taglie imposte e accende alcuni campanelli d'allarme. Ad esempio sull'IVA, se la manovra conferma la cosiddetta sterilizzazione degli aumenti per il 2019, nel 2020 invece, salvo interventi e recupero delle somme necessarie per la copertura, tali aumenti potrebbero arrivare a 23 miliardi di euro, sfiorando quasi 29 miliardi nei due anni successivi. Se i due provvedimenti bandiera, reddito di cittadinanza e quota 100 per le pensioni, vengono mantenuti, risultano fortemente ridimensionati, con risparmi stimati per un totale di 4 miliardi e mezzo. Le due misure partiranno d'aprile, ma i dipendenti pubblici, a differenza del settore privato, per lasciare il lavoro con quota 100, dovranno aspettare ottobre. Sul fronte delle novità invece ci sono gli incentivi per acquistare i seggiolini antiabbandono per i bambini in auto, obbligatori dallo scorso luglio. Riconfermati poi il bonus mamme, con un assegno di 800 euro per le donne prossime al parto, il bonus asilo Nilo, che aumenta, e il bonus bebè per chi ha un iseta, i 7 mila e i 25 mila euro, bonus che crescerà del 20% se si tratta del secondo figlio. Nella chiesa di Cristo Re a Trento, ieri mattina è stata aperta la Camera Ardente per dare l'ultimo saluto ad Antonio Megalizzi, il giovane giornalista italiano ucciso nell'attentato al mercatino di Natale di Strasburgo. Centinaia di persone hanno voluto omaggiarlo e potranno farlo fino al momento del funerale che verrà celebrato alle 14.30 di oggi nella Cattedrale di Trento. All'esequio saranno presenti anche il Presidente della Repubblica Mattarella e il Presidente del Consiglio Conte. La guerra contro l'Isis è finita. Trump annuncia il ritiro delle truppe americane dalla Siria. Stupiti e contrari, Pentagono, partner occidentali, kurdi e israeliani. Marco Burini. L'Isis è stato sconfitto, missione compiuta, quindi che ci facciamo ancora in Siria? È ora di andarsene. Così Trump ha spiazzato per l'ennesima volta sottoposti e alleati, confermando il ritiro delle truppe da un paese in cui da anni si trascinò una guerra civile, anzi sui civili, e in cui gli Stati Uniti erano intervenuti quattro anni fa per sostenere la coalizione di arabi e kurdi contro il cosiddetto Stato Islamico. Kurdi, che a prezzo di enormi sacrifici, hanno riconquistato il terreno palmo a palmo, ma che adesso restano senza l'appoggio aereo e tattico dei soldati americani, che non sono tanti, circa 2000, ma potevano coprire loro le spalle, soprattutto della Turchia. Guarda caso, proprio una settimana fa, Erdogan ha parlato con Trump, dal quale ha ricevuto rassicurazioni sulla situazione nel nord-est della Siria, ma soprattutto una partita di missili terraria. Se comincia un'altra campagna turca contro i kurdi, non c'è da stupirsi. Ma anche la decisione di Trump non è sorprendente. Lui ragiona sempre e soltanto da uomo d'affari. E noi abbiamo la memoria corta. A marzo, pochi mesi fa, aveva detto, dopo aver eliminato l'ISIS dalla circolazione, usciremo dalla Siria molto presto. Nessun riferimento ai profughi, alle stragi, all'uso di armi chimiche da parte del regime di Assad. Per lui quella regione è sempre stata una perdita di tempo e di denaro. In Medio Oriente non abbiamo ottenuto niente, se non 7 mila miliardi di dollari spesi in 17 anni. Non fa niente se l'ISIS non è del tutto sconfitto e può riprendersi, come suggeriscono i comandi militari. Non fa niente se Israele si agita e la Russia se la ride. Non fa niente se Assad e i capi dei ribelli tengono in ostaggio un intero popolo. Trump ha altri interessi. Trump invece ha detto sì all'ingresso della madre yemenita che non poteva visitare il figlio di due anni morente e ricoverato negli Stati Uniti. Il travel ban approvato a suo tempo teneva infatti fuori la signora, la svolta, lo vedete nelle immagini pochi giorni fa grazie ad una campagna in suo favore. Così la vedete ancora la donna riuscita ad entrare negli Stati Uniti ed ora si trova con il figlio. Ancora negli Stati Uniti boom di omicidi a Baltimora così la polizia decide di comprare le armi dei cittadini per toglierle dalla circolazione. Tanti hanno aderito all'iniziativa anche per avere denaro per i regali di Natale. Pierluigi Vito. 25 dollari per un caricatore di grande capacità, 100 per una pistola o un fucile, 200 dollari per un fucile semiautomatico e 500 per un automatico. Non sono i prezzi di vendita ma quelli con cui la polizia di Baltimora ricompra dai cittadini le armi che hanno in casa per toglierle dalla circolazione. Un'iniziativa voluta dal sindaco Catherine Pugh per cercare di arginare gli spaventosi tassi di criminalità di questa città di 620.000 abitanti a due passi da Washington che per la quarta volta consecutiva dovrebbe superare i 300 omicidi in un anno, praticamente quanti in tutta Italia. Tre giornate sono state organizzate per consentire ai residenti, garantendo l'anonimato, di consegnare le loro armi da fuoco ricevendo soldi pronta cassa. C'è chi tira su un po' di denaro per comprare i regali di Natale ai figli e chi, come questo giovane che vuole restare anonimo, ne approfitta per fare affari, rimediando un caricatore a 5 dollari e ricavandone 25 dalla polizia. Benvenga comunque se serve a togliere strumenti di morte dalle strade. Per le autorità l'operazione è già un successo, in un solo giorno sono state recuperate 580 armi. E in questi giorni persino la Casa Bianca ha dovuto respingere le pressioni degli attivisti pro-armi, consentendo la messa al bando dei cosiddetti bump stock, potenziatori che trasformano fucili semiautomatici in mitragliatrici. I bump stock salirono tristemente alla ribalta delle cronache dopo la strage di Las Vegas del 2017, quando il killer Stephen Paddock li usò per uccidere 58 persone sparando da un albergo durante un concerto. A coloro che possiedono bump stock, l'amministrazione Trump ha dato 90 giorni per consegnarli alle autorità o distruggerli. Traffico in tilt a Roma da questa mattina, oltre 20 pullman turistici hanno bloccato Piazza Venezia per protestare contro il nuovo piano del Campidoglio che dal 1 gennaio sancisce la messa al bando dei torpedoni dal centro storico. Tutto questo, mentre anche i tassisti romani oggi sono scesi in piazza, hanno allestito un sit-in di fronte al Senato in attesa della votazione sul cosiddetto emendamento NCC. Le auto bianche protestano per la revisione delle norme e dei noleggi con conducente promesse dal governo che, secondo i tassisti, danneggerebbero il loro servizio. A Genova adesso, dove oggi è il giorno della prima demolizione nell'area del ponte Morandi, non si tratta di un vero e proprio intervento sul viadotto, per cui bisognerà attendere almeno un paio di settimane, ma un'opera di dismissione nel cantiere sotto i Monconi Ovest con qualche abbattimento. Intanto, Bucci, il sindaco del capoluogo Ligure, commissario straordinario alla ricostruzione, si dice fiducioso che i tempi sia della demolizione che della ricostruzione verranno rispettati e che Genova avrà il suo nuovo ponte entro la fine del 2019. Tutto questo, nonostante i rallentamenti dovuti dalla procura che ancora indaga sulle cause della tragedia. Accordo nell'Unione Europea dal 2021 bandita la plastica monouso. Sentiamo Clara Iatosti. C'era una volta la plastica e la terra, la plastica e il mare, la plastica e la morte di tutto ciò che questo materiale infesta. Dopo oltre 12 ore di negoziato, le istituzioni dell'Unione Europea hanno reso noto l'accordo raggiunto per un continente plastic free. Dal 2021, messi al bando tutti gli oggetti di plastica monouso. Piatti, bicchieri, posate, cannucce, contenitori per alimenti sono certamente pratici e utili, ma hanno il difetto di essere fatti di un materiale virtualmente indistruttibile. Alle restrizioni già ipotizzate lo scorso maggio sono stati aggiunti nuovi obiettivi anche per i contenitori ad esempio dei fast food. Si comincia a fare sul serio il piano raggiunto sotto la guida austriaca mira a rendere l'Unione Europea leader mondiale nell'uso di alternative che evitino l'inquinamento marino. Ogni anno 8 milioni di tonnellate di plastica finiscono negli oceani devastando ecosistemi e producendo danni anche per la salute dell'uomo. Le microplastiche vengono trovate ormai ovunque e la Commissione UE ha ribadito l'allarme. Ad oggi oltre l'80% dei rifiuti marini è di plastica e poco meno di un terzo dei rifiuti di plastica generati viene davvero riciclato. Per questo l'intesa si preoccupa anche delle bottiglie in pet per bevande. L'obiettivo vincolante per ogni Stato membro è di almeno il 25% di plastica riciclata dal 2025. Nel 2030 poi tutte le bottiglie di plastica dovranno essere prodotte con almeno il 30% di materiale riciclato. Adesso vi raccontiamo una storia di vicinanza tra gli studenti di una scuola media di Milano ai loro coetanei siriani che studiano tra mille difficoltà in un campo profughi in Libano. Luciano Piscaglia A dividerli c'è il mare e una guerra feroce e infinita ad unirli lo schermo di un computer. Sono studenti milanesi e siriani per un giorno a scuola insieme. Un incontro a distanza che rientra in un progetto realizzato da un consorzio di ONG italiane e straniere e sostenuto dall'Unione Europea che punta a riportare a scuola più di 21.000 bambini e ragazzi siriani costretti a lasciare il loro devastato paese. Sinceramente no, non conoscevamo ancora realmente la situazione. Sapevo un po' come era che c'era la guerra queste cose però non conoscevo questi progetti. Nella loro situazione adesso stanno imparando e stanno andando avanti. Mi sembra che i ragazzi da una parte e dall'altra del Mediterraneo abbiano fatto sentire con estrema facilità quanto poi l'infanzia e l'adolescenza si assomiglino in tutto il mondo al di là insomma delle differenze e delle difficoltà. Nei 19 centri educativi allestiti dalle ONG in Libano e nei due aperti in Giordania i bambini siriani tornano a studiare ma soprattutto tornano a sognare il futuro loro e del loro paese che vogliono come ha detto uno di loro come era prima della guerra ma più sviluppato e più bello. Tanti studenti poi facendo il percorso poi ci dicono noi adesso possiamo credere più in una Siria migliore adesso magari possiamo ricostruire una Siria nuova sentiamo adesso più la speranza di poter farlo grazie a questa possibilità di ricevere un'educazione di migliorare e poi realizzare i nostri sogni l'annunciazione rivoluziona la storia è un passo della meditazione di questa mattina di Papa Francesco a Santa Marta nell'Omelia del mattino il Pontefice sottolinea come il dio delle sorprese cambia il destino dell'uomo è difficile predicare su questo brano aggiunge Francesco e quando a Natale o nel giorno dell'annunciazione professiamo la fede per dire questo mistero ci inginocchiamo è il momento in cui tutto cambia tutto dalla radice liturgicamente oggi è il giorno della radice ha proseguito Papa Francesco ed ora spazio alla nostra rubrica culturale terza pagina l'informazione del TG2000 torna alle 18.30 grazie per averci seguito arrivederci arrivederci grazie a tutti